Renzi vive su Marte, le borse crollano, le banche rischiano, la gente cerca lavoro, di cosa parla di adozioni gay. La Lega è sempre stata e continuerà a essere assolutamente contraria a ogni ipotesi di adozioni gay. Il bambino almeno quando nasce ha diritto di conoscere la sua mamma e il suo papà, piuttosto si rendano più veloci e meno costose le adozioni per le migliaia di coppie in attesa. Spero che la smettano perché i problemi di Italia sono altre.